Prove di creazione di una porta in Vircadia. La porta è questa, l'ho aperta e ora la chiudo. Ho creato due pareti laterali per visualizzare il movimento della porta. Ho creato un perno della porta, cilindrico e sottile, che è questo che vedete, molto sottile. Ho copiato l'identificativo del perno porta, questo. Poi ho creato la porta, questa. Nella porta ho inserito in parents l'identificativo del perno. In script ho aggiunto il link allo script apri e chiudi la porta. Il gioco è fatto. Chiudo adesso gli strumenti di creazione e, come vedete, la porta chiusa, aperta, funziona. Ciao!